Soprattutto in mezzo al campo, dietro, a sinistra non so se giocherà Della Fiore o giocherà Milos, forse mette Milos a sinistra e Della Fiore centrale con Morero, anche perché effettivamente ha un lieve problema muscolare. Non hanno grande spinta, tranne l'altra parte con Angelo, giocano Rosina, è un calciatore di grandi polibatecchi, però si dà il pressione, si dà il ritmo, è uno che potrà fare la fase rinanziva e giocare a ritmi alti.